allora ritorniamo al discorso aria calda aria aria fredda ribadisco sempre appunto questo concetto quindi la parte bassa dei polmoni si riempie completamente di aria la nostra cupola il diaframma che in contatto con con i polmoni viene spinto verso il basso il che provocherà un'espansione dell'addome quando soffiamo naturalmente i muscoli addominali riporteranno il diaframma nella posizione originaria ciononostante noi possiamo provocare aria calda e aria fredda ora per spiegare bene questo questo concetto mi faccio uso di due metafore allora prendiamo una bottiglietta una bomboletta di spray quello per per disegnare i muri e poi prendiamo invece un tubetto di dentifricio allora molti quando soffiano e come se spremessero un dentifricio altri invece quando soffiano e come se disegnassero quindi facessero uso della della bottiglietta spray allora il tubetto di dentifricio quando noi lo schiacciamo anche con molta potenza nel mezzo ok con tutta la mano e abbiamo il lo spazzolino qui vicino cosa succede che esce molto dentifricio ma ma non ha questo dentifricio non ha pressione ci si appoggerà sulla sullo spazzolino ne escerà tanto ma non ma senza pressione ecco cosa avviene nel diciamo dentro di noi noi allora magari inspiriamo correttamente quindi riempiamo la parte bassa dei polmoni il diaframma spinge giù quindi abbiamo allargato la 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 pancia e però cosa facciamo quando soffiamo quindi in un attimo finiamo tutto possiamo un po rallentare ma finisce lì ok quindi stiamo buttando molto dentifricio cioè molta aria che è un'aria calda e diciamo non abbiamo pressione non abbiamo potenza ok è come proprio il dentifricio e possiamo utilizzare questo tipo di di aria in musica ok però ecco vi sto facendo capire come che cosa uscirà quindi uscirà molto fiato in poco tempo come un tubetto di dentifricio e l'aria sarà calda quindi questa è l'aria calda quindi quando buttiamo fuori quando ci riscaldiamo le mani buttiamo fuori molta molta aria ma non pressurizzata ok invece cosa succede quando noi coloriamo il muro quindi agitiamo la bottiglietta quindi all'interno della bottiglietta c'è un tubicino che serve per pressare il colore quindi noi agitiamo la bottiglietta schiacciamo il pulsante il pulsante cosa succede che abbiamo una pressione enorme è una quantità piccola di colore quindi noi stiamo buttando fuori poco fiato ma con molta potenza cosa succede all'interno del nostro corpo questo è un passaggio importante stiamo buttando poca aria e però io sto 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 agendo sul sul diaframma e lo sto spingendo giù quindi sto sto andando come se come si dice contro natura no quindi sto spingendo fuori i muscoli addominali che invece dovrebbero essere dovrebbero compiere il loro lavoro quindi far rientrare la pancia no quindi allora anche se questo noi lo possiamo utilizzare musica perché il suono è un po più centrato no più nitido se ne usiamo aria fredda perché questo ci farà utilizzare aria fredda io sto pressando ma io diciamo vi ricordo che non dobbiamo creare inutile pressione abbiamo una specie di aerosol adesso all'interno ok del del nostro corpo quindi come possiamo ovviare a questo perché anche questo anche se è molto utilizzato magari ci può essere d'aiuto ma perché appunto in musica è tutto relativo no noi possiamo fare di tutto in tutti i modi diversi ma te però io secondo me piace suonare in modo rilassato anche quando poi parleremo di di imboccatura rilassata quindi c'è un altro modo invece per creare aria fredda e pressurizzare l'aria questo modo è quello di alzare la parte posteriore della lingua fin quasi a toccare i molari superiori imitate la caffettiera appunto del caffè quando sta per uscire il caffè quindi io già sto pressori pressurizzando l'aria quindi il movimento respiratorio quello normale ma se io voglio aria fredda se voglio velocità se voglio suono robusto se voglio suono centrato possa aumentare la velocità alzando la lingua e andando a toccare i molari superiori aria fredda con molta pressione e però è diciamo senza inutile pressione interna ora questo concetto non so se è chiaro però ecco i principi dovrebbero essere questi aria calda in un modo aria fredda nell'altro modo